Mancini, allora tu quando ti sei sbagliato? Adesso scrivo, andiamo a f*****o, tutto è scritto, è la stessa cosa, il letto, un quadro, preciso, cioè tu nel momento in cui ti sei reso conto, ho sbagliato un dì? A scrivere? E dici, oh guardate che ho sbagliato. A secondo te io vengo dall'assorto, andiamo a f*****o, posso portare a f*****o? Comunque vado a f*****o, posso perdere a me a uno o che fai? Ma no, ma no, ma no, questo.